Modifica del regolamento comunale di polizia locale per chiedere l'introduzione del daspo urbano, il protocollo di convenzione con le associazioni di membri di forza dell'ordine in pensione. E' la proposta che presenteranno i consiglieri comunali di Summona al centro, Angelo Amori, Luigi Santilli, prima nell'apposita commissione poi in consiglio comunale per l'attuazione del progetto Scuole Sicure dopo il summit che si è svolto in prefettura volto alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Dopo un'attenta analisi e necessari approfondimenti, il gruppo consigliare Summona al centro presenterà in commissione l'assiste civica dopo giusta condivisione a una proposta di modifica del regolamento comunale di polizia locale con l'introduzione del daspo urbano. Fanno sapere Amori e Santilli verranno investite in tale provvedimento le zone dove insistono presidi di istruzione, considerati da sempre luoghi fragili ed esposti allo spaccio di stupefacenti, così da allontanare chi opera nell'illegalità. Inoltre nell'ottica della prevenzione verrà proposto un protocollo di convenzione con le associazioni di membri delle forze dell'ordine in quiescenza, così da essere di supporto all'azione info-investigativa dei corpi di polizia e carabinieri e contestualmente ampliare la rete di videosorveglianza nei pressi dei luoghi frequentati dei nostri giovani ragazzi. Summona finalmente si muove su fronte della prevenzione dall'uso e spaccio di droghe. Come pure arriva una proposta in commissione che fa riferimento a questa tematica. Si vede che la reprimenta del sindaco sulle attività dei consiglieri nelle singole commissioni è servita a qualcosa.